Fra qualche giorno avrebbe festeggiato il suo diciottesimo compleanno, un traguardo importante nella vita di qualunque adolescente, ed invece un improvviso malore non gli ha dato scampo strappandogli via sogni e progetti. Sarà l'autopsia a chiarire le cause che hanno stroncato la vita di un ragazzo di 17 anni, Giulio Vitti, morto domenica pomeriggio nella sua abitazione di Monopoli mentre era sotto la doccia. In casa con lui c'era la madre, le urla strazianti della donna hanno richiamato i vicini che a loro volta hanno allertato la polizia e gli operatori del 118, ma i tentativi di rianimarlo, prima da parte degli agenti e poi dei sanitari, si sono rivelati inutili. Il giovane non riusciva a respirare ed era sempre più cianotico. All'arrivo in ospedale per lui non c'era già più nulla da fare. A non lasciargli scampo sarebbe stato un infarto fulminante, ma risposte certe arriveranno solo dopo l'esame autoptico che sarà effettuato entro un paio di giorni al Policlinico di Bari in base a quanto disposto dalla procura che come atto dovuto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Da verificare il possibile collegamento tra il decesso ed un malessere che il 17enne aveva accusato pochi giorni fa quando si era presentato al pronto soccorso del San Giacomo di Monopoli con un dolore all'orecchio. Dopo un controllo dello Torino era tornato a casa. I referti della visita sono stati posti sotto sequestro mentre saranno controllati anche i farmaci che il giovane può aver assunto per curarsi. Nessuna certezza al momento ma solo tanto sgomento per una morte improvvisa è difficile da accettare. Soprattutto per la madre del ragazzo. Il 31 marzo scorso la donna aveva perso il marito scomparso prematuramente a 56 anni. Adesso un triste destino le ha portato via un figlio non ancora maggiorenne, riaccendendo un dolore che da grande è diventato immenso.